ma disse ha fatto la fiscia in casa ma disse in terrazzo questo è un brutto segno ma disse deve vivere ancora due o tre anni anche altri 5 a 100 anni ma lo sai lo sai o no è come cristiano mi abitano i capelli non so se si celebrava sai che ti dico devo metterlo anch'io scendi Beryshire l'allarme numero 1 chiamano 800 249494 vai su Beryshire.it e il gusto avrà la tua prossima avventura scopri gli elementi della natura con Nui fuoco mango indiano e cocco un cremoso gelato e un croccante cioccolato nuova Nui Elements collection è il momento perfetto per abbracciare il cambiamento per imparare in modo innovativo e sostenibile però mi dice se mi dice morire io non pazzisco ma tu fai meno discorso a culo per piacere ma fai meno a culo no Marco non ributti no Nelio da trappi anni mangiare no Nelio da trappi anni mangiare no Ramadisi no Ramadisi no Ramadisi no Ramadani no Ramadani